buonasera buonasera ragazzi mettiamoci un po allo madonna c'è il microfono che mi fa ombra in faccia siamo a villa piana guardate che spettacolo questo lido quella mia moglie che cammina stiamo andando a fare una camminata sulla sabbia non lo guardate qua guardate qua vediamo se si riesce a vedere la sabbia che cammina con il vento è spettacolare solo che c'è un po di vento non posso volare con il drone quindi sto facendo solamente un piccolo blog dopo per tra pochi secondi e pochi minuti vi farò vedere la zona adibita al alla sosta per i camper oddio non è che adibita proprio alla sosta per i camper diciamo che è un parcheggio a pagamento sotto una pineta ma stiamo proprio a ridosso dell'acqua nel senso abbiamo questa bella spiaggia lunga saranno 100 metri di spiaggia poi attraversa una stradina a doppio senso sarà setto otto metri e siamo nella pineta quindi proprio sul sulla riva del mare sullo Ionio siamo nell'alto Ionio Cosentino in provincia di Cosenza Calabria Villa Piana Lido si sta bene è tranquilla la sera c'è molta gente c'è molto movimento sul lungomare si sta tranquilli i camper stanno tranquilli che è una cosa molto importante e la zona è molto carina dopo ve lo faccio vedere l'avete visto questo è il nostro mare l'avete visto l'avete visto l'avete visto l'avete visto l'avete visto c'è questo vento pazzesco E infatti DJI mi dava l'allarme in volo, però un voletto col drone me lo sono fatto lo stesso. L'Air è un piccolo carro armato portatile, secondo me è il miglior drone da travel vlog che possa esistere. La comodità di utilizzo, la comodità di trasporto, la reattività, la modalità sport e tutte le modalità di volo che ha. Ma chi fa travel vlog che bisogno ha di andare a 5 km di distanza o a 1000 metri di altezza? Travel vlog vai benissimo a 30, 50, 60 metri di altezza e nell'arco di un chilometro fai tutto. Quindi sì, il Mavic 2 Pro, il Mavic 2 Zoom, spettacolari ma costosi, grossi, impegnativi, inutili per i travel vlog. Altri video, altri tipi di utilizzo, va bene, ma per i travel vlog no. Mavic Air, number one. Allora, questa è la pineta libera, in cui uno paga un parcheggio come se fosse un'autovettura. Non so se due o tre euro al giorno. E ti parcheggi in santa pace su quest'area molto molto vasta. Non ci sono carichi e scarichi di acqua, quindi è solo una sosta. Attenzione, perché se dovete caricare e scaricare l'acqua, dovete farlo in altri luoghi. Questo è solo un parcheggio, un parcheggio semi custodito in riva al mare. Come vedete di tra me c'è il mare. E quindi state in santa pace per tre euro al giorno. Mettete il tavolino, fate i picnic, andate sul lungomare. Se vivete la movita notturna del paese, vedete quanto è grande la zona molto ampia. E qui si sta in grazia di Dio, poche zanzare, quasi nulla. Il mare è basso, adatto ai bambini. Non c'è corrente, difficilmente c'è mare mosso. Quando è mosso l'onde sono alte 30 centimetri. E quindi questo è proprio il posto familiare che fa per voi. E' recintato, come vedete c'è tutta una recinzione in legno. E quindi da qua non si esce. Io ve lo consiglio e poi ve lo farò vedere più in là. Per questa volta mi fermo solo a una presentazione. Qualora qualcuno di voi fosse interessato ad un breve weekend in Calabria, non sappia dove andare, non vuole andare da nessuna parte e vuole fare libera, beh qui si fa la libera. Si paga 3 euro di parcheggio, quindi è una libera, tra virgolette, legale. Si può fare. E state in grazia di Dio. Vi godete il mare, vi godete il sole, venite in Calabria e date un'occhiata in giro. Poi magari decidete l'estate se tornare, se non tornare, se cambiare posto, se andare più a sud, se andare più a nord. Insomma, questo è.